Hai mai immaginato di trasformare uno spazio della tua città? Sogni di organizzare eventi culturali? Ti piacerebbe ridare vita ad uno spazio verde assieme ad amici? Vorresti coinvolgere la tua comunità per sostenere persone in difficoltà? Si può fare! Se hai tra i 16 e i 30 anni e un'idea da proporre per la tua comunità, partecipa! Noi ti sosteniamo e mettiamo a disposizione un contributo per realizzare la tua idea. Vai ora su www.sipuoffare.net Scopri le opportunità presenti nella tua regione.